Ben trovati a tutti gli amici del web. Allora, come potevano mancare le mie dichiarazioni sui commenti che ha fatto l'avvocato Carlo Taormina proprio qualche giorno fa a Radio 24, nel programma La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani, che io adoro e che saluto. È un grande, grande conduttore. L'avvocato Taormina ha dichiarato, ha fatto delle pesanti dichiarazioni sugli omosessuali, quindi ancora una volta, nel 2015, dobbiamo ascoltare dichiarazioni pessime nei confronti degli omosessuali. Questa è una cosa che va sottolineata perché sinceramente io lo trovo ingiustissimo che adesso, che nel 2015, ancora dobbiamo sentire delle stronzate del genere. Adesso vi spiego, perché evidentemente qualcuno non lo sa, l'avvocato Taormina ha detto che gli omosessuali sono degli esseri difettati, che quei difetti andrebbero curati, che lui è stato sempre infastidito dagli omosessuali e che li riconosce soltanto dai gesti e soprattutto li riconosce perché, cioè li riconosce come fa con i delinquenti. Allora dico, avvocato Taormina, con tutti i rispetti, io non sono nessuno, si figuri, non mi permetterei mai di andarle contro, anche perché, come dire, io sono anche molto liberale, quindi mi piace così dare ragione a tutti, però lei ha veramente detto una grossa stronzata, me lo faccia dire, è proprio una grossa, grossa stronzata. Chieda scusa immediatamente alla comunità LGBT, che io, voglio dire, rispetto, ci faccio parte e sinceramente io trovo proprio assurdo che lei, una persona così importante, una persona laureata, una persona rispettata e soprattutto pubblica, dica queste cose in una radio ascoltata come Radio 24. C'è veramente da piangere, veramente da piangere. Sono schifato per questo suo atteggiamento. Quindi chieda scusa alla comunità perché, le dico, è un consiglio che le do, ma proprio per rispettare il prossimo, per rispettare il futuro, per rispettare la società, perché noi siamo tutte persone che comunque viviamo in questa società, etero, omosessuali, tutto quello che c'è in giro, e tutti dobbiamo essere rispettati, proprio tutti, compreso lei, che secondo me, devo dirglielo, è un po' difettato, perché una persona che parla così è solo una persona che ha qualche difetto. Mi spiace aver così colpito qualcuno in questo video, però è quello che penso, lo sapete che mi piace dire sempre tutto ciò che penso e questa volta l'avvocato Taormini ha davvero esagerato. Buona serata, ciao a tutti.